Foglio Shimstock Artifol Metallic da 12 micron, costituito da un foglio di poliestere metallizzato dello spessore di 12 micron con strato di colorante da 6 micron. Il foglio Shimstock Artifol Metallic 12 micron si distingue per le ottime caratteristiche di trasferimento del colorante. La metallizzazione dei fogli ha ridotto in modo significativo il problema della carica elettrostatica. Inoltre è impossibile confondere il lato ricoperto di colorante con l'altro. A completamento della gamma in quattro colori, il foglio Shimstock Artifol Metallic da 12 micron è disponibile anche senza strato di colorante. Questa versione è disponibile anche in due larghezze. Grazie per la visione!